Ecco sono qui, Pippi Calzalunga così mi chiamo, credo proprio che una come me non c'è stata mai, ogni volta che devo far qualcosa condino guai, ma alla fine poi vedo che sono tutti amici miei. Pippi Pippi Pippi, che nome fa un po' ridere, ma voi riderete per quello che farò, tutto il giorno sto con una scimmietta e un cavallo bianco, con un papo che tutto il mio formaggio si vuol mangiare, forse non lo sai ma io qualche volta divento magica, quello che tu vuoi dillo me che forse te lo darò. Pippi Pippi Pippi, che nome fa un po' ridere, ma voi riderete per quello che farò, e Pippi Pippi Pippi, Pippi Pippi, Pippi Pippi, Pippi Pippi, 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 Pippi. E al cielo la chiederemo. Auguri, 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 urrà! Caspita che lavoro, se non fosse per il compleanno di Pippi non lo farei di sicuro. Meno male, cominciano ad uscire. Su ragazzi, vi dovete ancora cambiare, lavare e pettinare prima di andare da Pippi. Non è necessario, tanto dopo una mezz'ora siamo ridotti peggio di prima. Finalmente, una moneta da cinque corone. Non dimenticate gli impermeabili e gli stivali di gomma, è cattivo tempo e piove. Va bene, mamma. La pioggia non ha mai fatto male a nessuno. Ah, dai, retta a me, è una bugia. Nessun uomo al mondo ha un baule pieno d'oro. Prima voglio assicurarmene bene, perché se c'è davvero un baule pieno d'oro, conosco qualcun amico mio che ci arriva di sicuro. È Donner Cazzo. Ah, d'accordo, ma può essere molto pericoloso il freddo. Sei proprio un tifo. Basta avere un po' di coraggio ed è fatto. Guarda, noi entriamo e chiediamo che ora è. Sarà permesso, credo, no? E una volta entrati... 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 30... Avanti! Ora state fuori se preferite. Su? Su... Sogno o son d'esto? Eh... Salve. 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 Credevo che fossero Annika e Tommy, ma accomodatevi pure, prego. Siete venuti per farmi gli auguri per il mio compleanno? Ecco, noi veramente volevamo soltanto chiedere l'ora E proprio così, volevamo solo sapere che ora è Tu sei sola in casa, vero? No, c'è anche il signor Nilsson con me E il signor Nilsson sta di là? Sì, ed è molto nervoso È molto robusto il signor Nilsson? Sì, il signor Nilsson è molto molto forte Cosa? Beh, come ho detto, volevamo solo sapere che ora è Ma allora perché non lo fate? Come prego? Dico, non volevate chiedere l'ora? Già, certo, certo, naturalmente, che ora è? Non lo so, l'orologio fa sempre Tic tac, tic tac, tic tac, tac tic, tic tac Sempre lo stesso rumore E a me non interessa sapere che ora è Bene, molto bene È molto gentile Grazie tante Arrivederci Cento quattordici Cento quindici Centosedici Centodiciassette Centodiciotto Centodiciannove Ah, è chiaro che quel signor Nilsson deve essere un gigante No, 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 è troppo pericoloso Ci sarà pure un momento durante la notte in cui dormirà, no? E allora, impiombiamo sopra e... Zaccati E addio, signor Nilsson Codiciotto che tu debba mangiare sempre. Aspetta, la festa non è ancora cominciata. La festa non è ancora cominciata. Ehi, signor Milson, stai lontano dallo zucchero, eh? La festa non è ancora cominciata. Eccoci, Pippi. Auguri per i compleanni. Grazie. Auguri di cuore, Pippi. Entrate. Ho un mucchio di sorprese. Pippi quel giorno era veramente felice. È stato il più bel compleanno della sua vita. E figuratevi un po', ci fece anche dei regali. Lei fa regali agli altri per il suo compleanno, ma è incredibile. Non importa, Tommy. Lo sai che faccio sempre quello che mi piace, no? Tieni, Anica. Oh, come sei gentile, Pippi. Grazie. Tieni, Anica. Tieni, Anica. Tieni, Anica. Tieni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Forse ho mangiato un po' troppo. Anch'io, Pippi, io mi sento male. Mi aiutate a mettere in ordine? Ma certo, Pippi, certo. Quando sono sazia riordino sempre. Lo fate anche voi dopo una festicciola? Sì, qualche volta. Però non lo facciamo come te. E adesso cosa facciamo, Pippi? Vedrai, faremo una cosa divertente. Andremo in soffitta a rovistare tra le vecchie cose, eh? Come? In soffitta. Non immaginate quanto sia divertente. Vi assicuro che c'è un bel via vai di fantasmi. Cosa? Io non ci credo. Non esistono mica i fantasmi. Ah no, i fantasmi esistono e come. Ora ve li farò vedere io. E cosa fanno? Di solito giocano a bocce con le loro teste. È terribile. Terribile. E perché? Non fanno male a nessuno, cosa credi? Andiamo. Venite con me. Andate pure, io rimango qui. Ma Annie, che immagino un po' se scendesse un fantasma e ti trovasse qui tutta sola. Smettila, Tommy. Non dire queste cose. Io ti consiglio di venire con noi. Ma sì. Credo che sia meglio che venga anch'io. Ehi, i fantasmi, arrivano visite. Ehi, i fantasmi, arrivano visite. Ehi, i fantasmi. Ehi, i fantasmi, arrivano visite. Ehi, i fantasmi, arrivano visite. Ah! 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 Dovevo immaginarlo che a quest'ora non ci sarebbero stati Oggi hanno la riunione generale Meglio così Quello lì è uno che devo aver fatto tardi Ma non c'è nessun fantasma, fifoni Quello che è volato adesso era un semplice gufo e basta Un semplice gufo Già e se qualcuno dice che ha visto i fantasmi giuro che gli torco il naso Ma sei stata tu a dire che c'erano L'ho detto io E allora ecco qua La notte delle streghe sui monti blu Uffa, smettila E allora ecco qua Uffa 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 Grazie a tutti. Guarda, Annika. Chi è, Tommy? Non urlate in quel modo. Guardate cosa ho trovato. Un cannone e una vecchia camicia da notte del mio papà. Sì, ma non fare più quegli scherzi, hai capito? Ma le camicie da notte sono allegre, Annika. E le armi non sono mica pericolose. Anzi, qui ci sono ancora delle pistole. Ne volete un paio per caso? Oh, sì. Ma credo che nostra madre non ci permetterà di tenerle. E carica quest'arma? Ma no, non sono mica matta. Buonanotte, cari fantasmi! Non giocate mai con le armi, diceva mio nonno. Potrebbero essere cariche. Il nonno aveva proprio ragione. Meno male che ho colpito un fantasma. Avete visto? Quello lì è il suo sangue. I fantasmi non esistono, no? Non si sa mai. È meglio non fidarsi troppo, Annika. Ascolta, Pippi, questa è la più strana festa per un compleanno alla quale ho assistito. Sì, Tommy, ma abbiamo dimenticato di farle gli auguri. E viva, e viva, e viva, e viva, noi crediamo alla felicità, così felici, con tanti amici, noi vogliamo vivere cent'anni e più. Vi ringrazio. Non c'è di che, ma adesso dobbiamo andare. Prendi. Buonanotte, Pippi. E grazie tante. Ci vediamo domani, buonanotte. A domani. Dormi bene. Ciao, ciao. Quando sarò grande diventerò capitano dei pirati. E voi due potrete venire con me sulla mia nave. Sì, va bene, buonanotte. Sogni d'oro. Ci siamo. Speriamo che ora si addormenti presto. Fai silenzio. Maialino, dormi, dormi, non far chiasso, son già le sette. Sveglierai i maialini, che fanno già la nanna. Vabbè, che delizio. Finalmente andiamo. Ora dormono tutti. Quel tizio, come si chiama, quel signor Nilsson? Chissà se dorme anche lui. Sì, 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 dormi anche lui. Ecco fatto. Sì, ma adesso stai zitto, mi raccomando. Sì, ma adesso stai zitto, mi raccomando. Sì, ma adesso stai zitto, mi raccomando. Dormi qui? Con le scarpe sul cuscino. Guarda tu in che modo dormono questi marmocchi. Sicuro che dorme? Stai a vedere. I bambini quando dormono puoi rovesciarli a testa sotto che non si svegliano, vedi? Va bene, ma dove pensi che dormirà quell'energumeno? Chi? Il signor Nilsson? Se non vi dispiace, il signor Nilsson non è un energumeno, è una scimmia. Ne sei proprio sicura? Bloom, Bloom, indovina chi è il signor Nilsson? Una scimmia. Cosa c'è da ridere? Certo che è una scimmia. Pensavate davvero che fosse un energumeno? Ascolta, piccola, vieni qui, voglio parlarti. No, lasciatemi in pace. Devi venire qui, ti ho detto. Cosa volete? Vi serve di nuovo che vi dica l'ora? Ascolta, la tua mamma e il tuo papà sono in casa? No, la mia mamma è in cielo e il mio papà nei mari del sud. Vuoi dirci dove tieni nascosto il tuo baule? Eccolo, sta lassù, sull'armare. Ti dispiace se ce lo portiamo via? No, io non ho nulla incontrato. Però bisogna vedere se siete capaci di farlo. Una signorina come te non dovrebbe fare queste cose, lo sai? E io invece le faccio. Siete voi che avete cominciato per primi. D'accordo, gattina selvatica. Ora ti faccio vedere io. E non ci provare mai più un'altra volta. Perdono, cara signorina. Noi non volevamo fare niente di male. Sì, è vero, non volevamo fare niente di male. No, tu non sai cosa voglia dire? Niente. Avere fame. Come? Non avete niente da mangiare? Proprio così. E se non fosse stato per la fame, non ci saremmo mai sognati di portarti via quel baule. Te lo assicuro. Eh sì, abbiamo proprio tanta fame, tanta, ecco. Già. Aspettate un momento. Sì. Dovrebbe esserci della torta di panna avanzata dalla festa. La torta di panna? Magari. Sì, portaci pure gli avanzi. Oh, sì, ci piacerà certamente. Va bene, aspettate. Forza, scappiamo dalla finestra. Ecco la torta. Oh, mamma, cosa fai? Oh, mamma, mamma. Perché non hai detto che volevi mangiare la torta? Ah, mamma. Ragazzi, che bella coppia di matti. Prima ti raccontano un mucchio di frottole dicendo che hanno fame e poi ti fanno una cosa simile. Ma, chissà, può anche darsi che avessero fame sul serio. Boh. Sai, mamma, io volevo dare una moneta d'oro a ciascuno, ma tu hai visto come sono fuggiti. Forse qui verrà qualche ladro che tutto vuol rubare. In silenzio, allora, con un sacco in spalla arriverà. Ma lui non sa che Pippi Calzalunga in agguato sta. Quando la vedrà, forte come il vento, scapperà. Ecco sono qui, Pippi Calzalunga così mi chiamo. Credo proprio che una come me non c'è stata mai. Ogni volta che devo far qualcosa continuo guai, ma alla fine poi vedo che sono tutti amici miei. Pippi 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 che nome fa un po' ridere, ma poi riderebbe per quello che farò. Tutto il giorno sto con una scimmietta e un cavallo bianco, con un papo che tutto il mio formaggio si vuol mangiare.